Tanti dei monumenti del passato sono pieni di misteri sui loro costruttori, sul loro modo di pensare, sul loro modo di costruire. Ad esempio le piramidi di Giza, ad esempio Stonehenge, piuttosto che Machu Picchu, piuttosto che anche il Pantheon a Roma. Tuttavia la stragrande maggioranza, se non tutti, questi monumenti presentano dei legami astronomici, degli allineamenti verso fenomeni celesti. La scienza che studia questi legami, in stretta collaborazione con l'archeologia, si chiama archeoastronomia. Se usata nel modo corretto ci può dire molte cose interessanti su questi luoghi, ci può anche permettere di visitarli in momenti speciali, come per esempio il tramonto del Sole al sostizio d'estate a Giza, fra le grandi piramidi, che state vedendo alle mie spalle.